Il Foro Boario, la miniera di Crodo scelta per le selezioni regionali di Miss Mamma Italiana, portare in risalto la figura della donna ed in particolare della mamma. Hanno tutte dai 25 anni in su le donne che cercano di guadagnarsi la vittoria della selezione di Crodo per poi accedere alle fasi finali del concorso. Portare in risalto la figura della donna ed in particolare della mamma. Qual è il significato di una giornata come questa? È una giornata importantissima perché la mamma e la donna sono il fulcro della nostra famiglia, della nostra società. 18 le mamme in gara, ma qual è il significato benefico di questa iniziativa? Allora, il tema spettacoli sostiene la Ariane Endometriosi. Il ricavato delle offerte o così andranno alla mia collega che purtroppo ha avuto un'ischemia celebrale e dovrà subire un trapianto di cuore. L'ho voluto fare più che altro per lei. Ho voluto questo anche perché voglio che le persone capiscono che comunque essere madre non è solo avere un figlio, si può essere madre anche senza avere figli. Si è mamma di tua mamma, mamma di una zia, mamma di chiunque, mamma di te stessa perché la donna comunque è mamma, qualunque sia. Un'iniziativa realizzata anche con il patrocinio del Comune di Crodo. Sì, il Comune di Crodo ha patrocinato volentieri questa manifestazione che era già prevista qualche anno fa ma poi purtroppo per gli eventi della pandemia non l'abbiamo potuto realizzare. Quest'anno finalmente in accordo proprio con l'organizzazione siamo riusciti a portare a Crodo questa importante manifestazione. Cosa rappresenta per lei un'iniziativa come questa? Ma sicuramente conosco Angela Gemelli da parecchio tempo e quindi per me è un onore far parte della sua giuria e dell'evento che sta organizzando e poi la figura della mamma è sicuramente molto importante da mettere il focus sull'importanza della donna e del ruolo della madre. Direi che qua c'è veramente un evento importante perché si vanno a coniugare al giorno d'oggi poi secondo me due elementi molto importanti ossia il concetto della maternità, quindi della continuazione della vita e il concetto poi della nobile causa che so che c'è qui per Ariane eccetera, quindi quella della raccolta fondi. Come mai Edoardo Raspelli qui a Miss Mamma Italiana? Beh è una cosa diversa da solito in un posto che ormai fa parte del mio cuore perché io vivo con la mia famiglia, la mia residenza in Bregia di Milano ma da tre a quattro anni mi sono rifugiato nell'ennesima casa che ho affittato in Val d'Ossola in particolare in Valle Antigorio e quindi sono sceso di una decina di chilometri dal mio eremo e sono qui a giudicare e guardare le bellezze delle donne di questo territorio, delle signore di questo territorio.